In questo paese prevalgono ancora concetti radicati e maschilisti per cui una donna non ha la libertà di rompere una relazione con il proprio uomo, perché corre il rischio di essere brutalmente ammazzata. In una lettera i fratelli di Anna Costanzo, Francesco e Michele esprimono tutta la loro amarezza per l'essito del processo sull'omicidio della sorella, truccatrice di scena del teatro Petruzzelli uccisa nel luglio del 2009. La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a 16 anni e 6 mesi per Alessandro Angelillo, l'ex fidanzato della vittima, reo confesso del delitto. Nei suoi confronti i giudici del secondo grado avevano escluso l'aggravante della crudeltà, quasi dimezzando la pena a 30 anni, inflitta in primo grado. Ammazzare una persona è un atto di crudeltà, scrivono Francesco e Michele Costanzo, ancora più crudele se consumato nei confronti di una donna, che a livello di forza fisica è il più delle volte inferiore ad un uomo. Ma la cosa più crudele nel caso di Anna, e detto ancora, è stata l'intenzione di voler infangare la moralità di una donna attraverso un meticoloso ed attento teatrino che l'assassino Alessandro Angelillo ha messo in atto. È la cosa più deludente e squallida, prosegue la lettera, e che viene attribuita la responsabilità di aver causato quel momento di appannaggio, o per meglio dire quel raptus incontrollabile che porta l'assassino ad ucciderla. Lo stesso uomo che fino ad allora diceva di amarla. Lo stesso uomo che ha fatto in modo di trasformare la vittima in carnefice. Nel nostro caso, e nel caso di altre donne barbaramente assassinate, concludono i fratelli Costanzo, l'omicida ha trovato i suoi complici proprio in chi, assassinando i principi di moralità, dignità e giustizia, ha permesso che questo crudele assassino non abbia avuto la giusta pena che meritava.